Con noi oggi Marina Pugliese. Allora, dottoressa Pugliese, all'interno del MUDEC quali sono le sue mansioni, oneri e onori anche? Sono la direttrice del museo e quindi dirigo la collezione di opere e oggetti etno-antropologici, quindi provenienti dalle culture del mondo e coordino anche un'area a cui afferisce anche l'arte pubblica e Milano Arte Pubblica e Milano Città Mondo che sostanzialmente è la rete di relazioni con la comunità internazionale presente in città. Ecco, e qui da tanto tempo ha qualche emozione, qualche ricordo legato a questa esperienza? Io ho aperto, ho avuto l'onore di aprire il museo nel 2015 coordinando con la conservatrice Carolina Orsini il progetto scientifico e l'ordinamento delle collezioni, poi sono stata via 5 anni negli Stati Uniti e adesso sono ritornata come direttrice ma avendo anche appunto l'arte pubblica e le reti internazionali. Sono molto felice di essere tornata.